Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel 101esimo episodio della serie di sopravvivenza Allora, wow, lo scorso episodio è stato quello speciale, il world tour Che è andato benissimo, vi avevo chiesto 50 like e ci siamo arrivati Quindi vedete che ci arriviamo a certe cifre incredibili E nel momento in cui sto registrando siamo a 995 sul canale Quindi hey, non so se saremo già a 1000 nel momento in cui pubblicherò questo video Però nel caso, se è così, vi ringrazio Altrimenti mi sa che dovrete aspettare ancora un pochino Allora, qui mi sono fatto degli oggettini molto interessanti Quindi delle pozioni di resistenza al fuoco che ci serviranno adesso Ma anche un po' di ossidiana, un acciarino, un paio di enderpearl, due golden apple E poi questo stendardo molto particolare Allora, che cos'è che voglio fare? Non sono diventato pazzo perché mi porto dietro stendardi e cose bizzarre Beh, sicuramente mettendo insieme tutti questi oggetti Diciamo, potrete sicuramente capire dov'è che siamo diretti Stiamo andando nel nether Ma non nel nether questo qua, va bene Perché la fortezza che, diciamo, è raggiungibile in questo qua, di nether È veramente molto distante C'è una... diciamo, c'è un punto qui Qui, diciamo, che ci fa avvicinare parecchio alla fortezza Ma in realtà, comunque, sì, la strada è veramente lunghissima Quindi quello che ho pensato di fare È praticamente percorrere la tratta della West Coast Interrail E arrivare, per intenderci, fino a dove c'era il portale del nether Che si intravedevano Ora, purtroppo, quello che dovrò fare sarà, diciamo, buttarmi giù dalle rotaie Dal minecart, quanto meno Una volta che vedremo il polo nord, polo sud, chiamatelo come preferite Per intenderci, quando nello scorso episodio abbiamo visto quel portale Alcuni di voi mi hanno detto di provare ad entrarci per vedere cosa c'è Avete perfettamente ragione E soprattutto perché spero che lì ci sia una fortezza più vicina di quella che c'è qui alla base Per due motivi Prima perché ho bisogno di fare una Blaze Farm Perché, voi non so se lo sapete, ma si può cuocere il cibo, in generale, qualsiasi cosa Anche utilizzando le Blaze Rod Che hanno una resistenza molto superiore rispetto al carbone o alla carbonella E qua non è pari alla lava mai nella vita Però, insomma, avete capito, no? Ci sta come cosa E anche perché è un'ottima experience farm Ma il vero motivo, quello più importante, è quello di farmare le teste del Wither Perché ci avviciniamo sempre di più al momento in cui andremo a sconfiggere il Wither Boss Non so bene quando lo andremo a battere Anche perché vorrei farlo più o meno in corrispondenza dell'uscita del film Che sarà, adesso ve lo posso dire, per fine dicembre Quindi, proprio gli ultimi giorni di dicembre Non vi dico la data precisa, anche se In realtà la vedrete alle 4 e mezza Quando uscirà il teaser trailer Quindi, mi raccomando, alle 4 e mezza Oggi, teaser trailer Primo teaser trailer Poi non so se ce ne saranno altri Comunque sia il trailer ufficiale Uscirà poi verso dicembre Del film, per l'appunto Fra l'altro, se sentite una voce un po' strana È perché mi sto ammalando E già l'ho sentito dalla mia pronuncia Ammalando Cioè, con una voce che più in asale di così non si può Però, vabbè, non ci si può fare niente I video li faccio A meno che poi non mi viene un febbrone alluscinante Ma per il momento va bene così Dai, diamoci una mossa Acceleriamo un attimo E cerchiamo di riemergere Mi preparo anche l'arco Perché la mia idea sarebbe quella di Scendere dal minecart E shottare una freccia in modo da distruggere il minecart Perché, sapete com'è? Voglio anche tornarci indietro, eh Poi, fate voi E mamma mia, questa tratta è veramente lunghissima Ma è una cosa veramente impressionante Fra l'altro vi ringrazio anche per tutti i like I commenti, i feedback positivi Che ha avuto lo scorso episodio Vi è piaciuta tantissimo Sia World Tour Anche l'intro vi è piaciuta Bene Sono molto soddisfatto perché Ci ho messo parecchio a realizzarla Ma anche la mappa per coloro che l'hanno scaricata E quindi, niente Mi fa molto piacere il tutto Quindi, allora Ci siamo lasciati dalle spalle Il passaggio subacqueo E adesso non ci resta altro che avvicinarci a questa nuova zona Infatti, la mia idea sarebbe di costruire in questo punto Una sorta di avamposto Però costruito in maniera molto particolare Ovvero Voglio provare a costruire il Nautilus Perché il Nautilus? Ehm Allora, per chi non lo sapesse innanzitutto Cos'è il Nautilus? È un sottomarino Diciamo, inventato Di una storia, di un romanzo Che è 20.000 leghe sotto il mare E il Nautilus è per l'appunto questo sottomarino Costruito dal capitano Nemo In particolare io mi sto riferendo però Al cartone animato della Disney Tipo vecchissimo Di parecchi anni fa In cui c'era il capitano Nemo Che in una scena di questo cartone animato Posiziona La sua bandiera Al polo sud E la cosa è fichissima Anche perché Sempre nel polo sud Poi tipo il Nautilus Si rimane incagliato nel ghiaccio Cercando di Cioè perché Nemo voleva provare a Valicare Ecco intanto qua Vedete il portale Ecco Ehm Voleva provare a superare Una calotta di ghiaccio Ma il Nautilus Rimase incastrato E io voglio proprio realizzare Il Nautilus Incastrato in questo punto qua Proprio Incastrato nel ghiaccio Sarebbe veramente qualcosa di fichissimo E quindi niente Ci voglio provare assolutamente Perfetto Intanto missione compiuta Ehm Ok 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 Qui Siamo Al polo sud Lo considereremo così Voglio andare Qui sopra Sopra questo picco Diciamo così Costruire una piccola Diciamo punta di terra Fra virgolette poi E vediamo Vabbè Il legno c'è nel caso Per fare Tipo delle fence E Facciamo tipo Una cosa del genere Perché voglio Posizionare lo standard Con i colori del capitano Nemo Ehm Per l'appunto Sopra questa Sorta di Torretta di terra Chiamiamola così Beh è veramente bruttissima Ma Cioè Deve dare soltanto l'idea Poi ovviamente Attaccherà tutta l'erba Qui nevicando La ricoprirà anche tutta di neve Ma in questo punto Andremo a posizionare La bandiera La bandiera con i colori Del capitano Nemo Perfetto Non so È molto bellina Messa lì in alto Ha un grandissimo significato Perché quello lì È forse il cartone animato Disney Più figo che Cioè Quello che mi è piaciuto di più In generale Forse Oppure Atlantis Ma non saprei dire Vabbè stiamo qua a parlare di cartone animati Della Disney Invece dovremmo Pensare a questo portale Che è stranissimo Cioè ci fate caso Ci fate caso È proprio posizionato qui a caso Non so Quando l'ho creato E soprattutto perché è spento Adesso lo riaccendiamo E andiamo a vedere cosa c'è attraverso Sono assolutamente curioso di scoprire cosa c'è Quindi Ho anche i suoni del gioco molto bassi Va bene Vediamo eh Perché Sarà verosimilmente una zona di nether Che non abbiamo mai esplorato prima Ok allora Mi prendo prima di tutto le coordinate Perché mi sembra il caso di fare così E c'è una torcia What? Vuol dire che io ero stato qui Per qualche motivo strano E ignoto al momento Ma poi Me ne ero andato Tipo sono ritornato nell'overworld E per qualche motivo il portale poi si è spento Magari Mi ricordo male Tipo è esploso un creeper Può anche darsi eh Qua sembrava che ci fosse un passaggio Non lo so È molto strana questa cosa Perché sono È come Avere un ricordo vago Di esserci stato qui Ma non ricordarsi assolutamente nulla del posto E sperando che non si baghino blocchi Perché Questo piccone è così veloce Che spaccando tutti i blocchi Alcuni vanno a glitcharsi Ed è una cosa abbastanza fastidiosa Ok a questo punto Non saprei ma Oserei dire che è abbastanza pericoloso eh Quindi Tipo spostiamoci un attimino da questa parte Cerchiamo di scendere Su questa zona qui di Di netherrack E non ci sono mob Ah ero in pacifica Lol Scusatemi Scusate Non so perché Avevo messo in pacifica Per quale Motivo ignoto All'essere umani Agli esseri umani Però Va bene Allo stesso Chiedo venia E Sento già un gust Quasi 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 Preferivo Non accorgermene Che ero in pacifica Tanto prima o poi Me ne sarei reso conto Quindi Ah Qui c'è un blocco buggato Dicevasi Niente blocchi buggati eh Come no Ok Mettiamo tipo In questo punto Sbam Questo Qui dei blocchi da costruzione a caso E Mi prendo anche le coordinate di questo posto Non si sa mai Proviamo a salire da questa parte Ma Sinceramente Mi sa che la fortezza Non la troveremo Al limite Devo tornare indietro Alla base E utilizzare la fortezza che ce l'ha Però ci si piegherebbe Veramente Tanto Tanto Tempo Ad arrivarci Quindi Per il momento Limitiamoci a cercare eh Perché Siamo sempre stati Abbastanza sfigati Con questo nether Quindi Cerchiamo di Fra l'altro Questo qua c'ha silk touch Sì Sì Sono pazzo Perché sto utilizzando Quello con silk touch Che è preziosissimo Tipo Non so bene Dove Dove andare Ragazzi Proviamo a scalare Questa Parete di nether Incredibile E Vediamo di venirne a capo Allora Vediamo Vediamo Ci dovrebbe essere un lago di lava Prima o poi Mio dio Cioè non può essere tutta Tutta netherrack Così Che poi non c'è nulla I ghast sono spariti Di zombie pigmen Ce ne sono Uno tantum Quindi Bene Perfetto E Hola C'è nessuno L'ho chiamata ragazzi L'ho chiamata Yes Yes Boom Trovata E ci sono anche Wither Skeleton Eccellente Guarda che già mi hanno puntato Guardali che lezzi Ok Ok Facciamoci tutto il giro Va che tanto Non c'ho voglia di morire malissimo Quindi Andiamoci pure con calma Allora Fortezza trovata Non è lontanissima Devo riuscire a capire Come arrivarci Più direttamente Tanto Torcia qua Più direttamente Partendo dal portale Sicuramente Un modo c'è Magari per andare in rettilineo Non penso Che sia una cosa molto Papabile Però Cioè Si può provare Non c'è nessun tipo di problema E qui ci sono anche I nostri amici Wither Skeleton Quindi ci teniamo pronti Eccoli qui Hola Venghi Venghi qui Shottato Ma ha dato la sua spada Attenzione Ok One shottato E Va bene Adesso non ci resta quindi altro che Andare in giro Così E E continuare a farmare Quindi Ok Vieni qui Preso Shottato Mi ha dato qualcosa? No Non mi ha dato niente Intanto Però Fatemi aumentare la luminosità Se no poi voi Mi sclerate dietro Perché non vedete niente Oh mio dio Che roba sparaflesciosa Però eh Che roba brutta così Però Non ci si può far niente Se no poi Ovviamente youtube Oscura sempre Tutti i video Spawn di blaze Oh mio dio Infatti buoni Bestioline Infatti le brave Brave Bravissime Grandi così Perfetto Sigiliamo anche qui dentro Così loro se ne stanno buone Ci ricordiamo che lì È pieno di blaze Nel caso possiamo farci la farm Uno Due Non sei morta al primo colpo? Ma muori Ci sparisci Oh mio dio Oh mio dio Oh calmatevi No 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 C'era un Wither Skeleton qui Era Ed è spawnato Ragazzi ragazzi Allora Niente Allora cosa? Allora Allora cerchiamo di non morire Allora Va bene Perché c'è uno scheletro normale qui? Che ci fai qui? Non è il tuo posto questo Però Contento tu E Sì Non voglio tipo mettermi a fare Una farm di Wither Skeleton Perché so come si fanno Ma sono delle cose veramente Giga enormi E Non ne vale la pena Per farmare delle teste Intanto è buono il fatto che ci sono Due spawner di blaze Relativamente vicini Questa è una cosa molto buona Perché Ah intanto là ce n'è un altro di Wither Coso Perché Chiaramente Possiamo Fare una farm più efficiente Nel caso Hola Venghi qui Forza Forza Vai Ah mi ha Witherato Maledetto Molto bene Molto bene Questa armatura tanto È tipo Strapotente Non è vero mai Fa schifo questa armatura Però è la spada Che è potente Diciamolo Quello Non si può dire nulla Allora Ci prendiamo anche tutte queste Belle cose qui Queste verruche Perché Chiaramente Possiamo farci nuovi blocchi Quelli strafighi Tipo La Nedrak rossa No? Avete presente? Vediamo qui dentro Spero sperando di trovare anche magari delle chest Potrebbe essere una cosa carina Me la concedete una chest? Anche solo una Dai Ecco Detto fatto Yes Yes Cose fichissime La sella Vabbè chi se ne frega Però Ehi Diamanti Ci sta Niente ragazzi Dobbiamo trovare un punto In cui possano spawnare Tanti Wither Skeleton A meno che io non voglia rimanere qui a fare la spola Andando avanti indietro Cioè Si potrebbe anche fare eh Però mio dio Diventerebbe qualcosa di veramente noiosissimo Eccole la 1 Allora Devo riuscire a centrare la Blaze E non Appunto E non il Wither Skeleton Allora Tu ci muori Malissimo E invece Mi serve il tuo amico nero Che detto così Potrebbe suonare abbastanza male Nel caso Madonna santa Là c'è un altro di Wither Skeleton Andiamo a prendercelo Comunque è buono che ci siano degli scheletri normali in giro eh Perché faccio il rifornimento di frecce comunque sia Qui sopra c'era un Wither Skeleton Quindi Che fai? Scendi tu? Salgo io? Salgo io? Oh mio dio Mio dio Mio dio Mio dio Cos'è questo? Un rave party? Mamma mia Muoricci Muori 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 malissimo Muori Pozione 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 Ok Molto bene Molto bene Ok Ok Panico paura Panico paura Andiamoci con calma Intanto Wither Skeleton Era sparito L'avevamo visto tutti Che c'era eh Però Hola Blaze Dai Venite qui Forza Che va un mazzo di brutto Tutte quante Ora per quanto ne so io Quando si va a creare Una grande piattaforma Di spawning I Wither Skeleton Spawnano Appunto Cioè Più frequentemente Ok Non so se mi spiego Quindi è ovvio Che in uno spazio Così ristretto Quindi con Tutto Diciamo Il soffitto Fatto così E il passaggio Di Di netherrack Blocchi di netherrack Piccolissimo È ovvio Che la loro area Di spawning È limitata No Quindi Ha senso Che non ne troviamo Tanti Però Cioè Boh Mi sorprende Il fatto che Questa fortezza Sia così Piccola Tipo E quindi niente Non mi resta altro Che andare avanti Indietro adesso Sperando che spawnino Altri Wither Skeleton E Sperando che si muovano Anche perché Cioè Stare qui tutto il giorno Non mi sembra il caso Ok ragazzi Nel frattempo Io Continuo a girare Ne ho ammazzati altri due Di Wither Skeleton Ma Chiaramente non mi hanno Droppato nulla Manco sto a dirvelo E Dai qua c'è un altro Dai Droppami la testa Fai bravo Devo stare anche attento A non colpire gli zombie pigmen Perché Potrei scatenare un putiferio Veramente Ok qui non ce ne sono Non è che mi tendono Trappole strane No eh Fate bravi Mi raccomando Siete legit Giocate legit Mi raccomando Che poi secondo me Avrebbe anche senso Mettere looting Su questa spada eh Nel caso Lo farò per il prossimo episodio E vedremo Se l'effetto di looting Ha effetto O meno E Ne ho visto uno Yes Yes Ti ho chiamato Te Testolina Dai vini qui Niente Non mi droppi nulla Mai nella vita eh Grazie come sei simpatico Con un attacco di gastroenterite Porca miseria Dai Muovetevi a spawnare Però voi altri eh Devo Sicuramente andare Da quella parte Dove c'è la lava Per trovare Qualcos'altro Quindi mi sa che adesso Lo facciamo subito Perché Non posso tipo Limitare La mia esplorazione Giusto perché c'è un po' di lava In giro Quindi Tipo facciamo una cosa Tattica In questo modo Sbam E tipo anche da questa parte E tipo che chiudiamo Di qua Dai Dai Ok Ok Va bene E di qua Si prosegue Perfetto Va bene Speriamo di trovare qualcosa di interessante di qua eh Per favore Dai Qui c'è una chest Andiamo subito a prenderla Adesso mi spawnerà un Wither skeleton qui dietro No eh No va bene Una spada di Di oro Inutile E il problema è che ho soltanto Tre minuti E poi questa pozione di resistenza al fuoco Finirà Quindi Mi sa che Posso fare così A turni Cioè Diciamo A round Più che a turni A round Del tipo che Faccio round Di otto minuti ciascuno In cui provo a farmare teste E Uh Un magma cube Non è male farmarsi un po' di magma cream eh Però mi hai dato soltanto uno Dai Muorici Pure te E pure te piccolino Uno solo Vabbè grazie Un po' di oro Vabbè Chi se ne frega Cioè ragazzi Tre armature Di diamante Per cavalli Seriamente Seriamente Vabbè Buono Cioè Figo Voglio la tua testa Peggio di Maria Antonietta Dimmi qui Trucidiamo Blaze Yeah Mamma mia Che voce Da infarto Mica male però eh Ne stanno spawnando già un bel po' Di Wither Skeleton Quindi La cosa è buona Secondo me non ci ometterò neanche Così tanto Come immaginavo La cosa pratica è che Quanto meno Di pozioni di resistenza al fuoco Posso farne Tipo tantissime A casa E quindi Quindi nel caso Quando poi ritornerò alla base Posso rifarne delle altre Per l'appunto E posso fare un altro round Magari Domani Cioè Per voi martedì E per me Lunedì E niente ragazzi Io sono qua a girare Come una povera anima In pena Cioè Cosa vi devo dire Dai Ma perché ci siete voi Qui dentro Non ci dovreste essere Mamma mia Mamma mia Si stanno pestando tantissimo Pensavo di averlo colpito Io lo zombie pigman Vai pestatevi Guardiamo Ecco Almeno faccio qualcosa di interessante Vediamo Secondo Secondo me Vince lo zombie pigman Ma tantissimo Appunto C'era one shottato Parliamone Quindi Cioè Pensate se fossi stato io Al suo posto Di quel povero scheletro Eh Avrei fatto una brutta fine Diciamo Ehi Ehi Mi attacca lo zombie pigman Attacca tantissimo Mi sta attaccando lo zombie pigman Ragazzi No Oh Perché sta cosa? Perché Perché mi attacca Mi attacca tantissimo Perché Perché mi stava attaccando lo zombie pigman Ragazzi? Ehi Non gli ho fatto niente Non gli ho fatto niente Non gli ho fatto niente io L'ha colpito lo scheletro Non io Eh Vabbè Vabbè Adesso gli zombie pigman Ce l'hanno con me Perfetto Ragazzi io direi di concludere qui Questo video So che Oh mio dio Oh mio dio Cos'è sta roba? Cos'è? Ma perché? Perché? Co Cosa? Boh Lo so che non abbiamo concluso molto in questo episodio Però tant'è Abbiamo farmato un pochino Abbiamo visto che Ci serve assolutamente looting Quindi Lo metterò per il prossimo episodio Abbiamo passato altri 8 minuti qui Quindi sono almeno da 16 minuti In totale Quasi Che io sono qua a farmare Non ho ottenuto neanche una testa Mannaggia sti scheletri E quindi niente ragazzi Per il momento lasciate tanti Ma tantissimi like Per questa missione Nel nether Visto che è da tanto che non ci tornavamo E quindi niente Un saluto da Tesla I'll see you next time Ciao